Quello che tenteremo di fare oggi è paradossalmente provare a raccordare Memling con quello che è stato il racconto fatto dalle scuderie equirinale della pittura veneta, poiché la pittura veneta è stata per larghi tratti un dialogo con l'arte delle fiandre, l'arte della vasta regione geografica del nord Europa e non potevamo che cominciare da un dialogo tra lo sguardo di Antonio da Messina e quello di uno dei capolavori di Hans Memling, un capolavoro di Memling che immediatamente ci dà il passo di un artista che segna una step, un passo nuovo nel racconto di questo dialogo tra Venezia e l'arte del nord Europa, uno dei suoi ritratti tipici quindi un uomo visto di tre quarti all'interno di un paesaggio con la mano che spunta indicativa a raccontarci qualcosa, un dialogo che è un dialogo significativo anche a livello storico, tutti riconoscete uno dei capolavori, il capolavoro che apriva la mostra di Antonello alle scuderie, cioè il San Girolamo nello studio, questa stupefacente immagine che Antonello nel 1474 porta a Venezia il suo biglietto da visita nelle città lagunare, l'idea del San Girolamo visto come sapiente nello studio, la cornice esterna al di fuori della quale rimane il pavone, questo simbolo di passioni ma anche di volutà che quindi deve stare lontano dal santo e nello stesso tempo però un'opera estremamente complessa, non è una luce tipicamente italiana, abbiamo più fonti luminose quelle che arrivano dalle finestre aperte sul paesaggio verso cui avanza il leone ormai divenuto mansueto in questa cattedrale dagli archi goticheggianti, dall'altra parte un altro paesaggio e un gatto accucciato a tenere lontani quei topi che sappiamo sono l'incubo degli studi umanistici divorando le carte e al centro del tutto questo San girolamo leggente all'interno di un leggio costruito secondo quelle prospettive non piarfrancescane ma delle prospettive immaginate per essere massimamente suadenti per il fedele seduto sul suo scranno nella lettura di quella volgata della Bibbia di cui ci ha dato gli elementi essenziali tutt'oggi utilizzati. Ebbene questo dipinto è un dipinto di cui Marco Antonio Michiel nel 1529 quando lo vede presso Antonio Pasqualino scrive in modo molto significativo per il nostro racconto alcuni credono che il si stato di mano di Antonello da Messina ma lì più e più verosimilmente l'attribuiscono a Giannes ovvero al Memeli in pittore antico ponentino e così mostra quella maniera benché il volto è finito all'italiana sì che pare di mano del jacometto. Marco Antonio Michiel ci dà in una frase significativamente l'incrocio culturale dietro a un'opera come questa alcuni ci dicono che di Antonello da Messina ma altri più verosimilmente lo attribuiscono a Jan van Eyck, il Giannes oppure a Memling ma infine chissà potrebbe essere mano di Jacometto veneziano. Sono quattro degli intepeti del racconto di questa sera un racconto che significativamente parte in una ben precisa zona geografica. Quando noi oggi parliamo di Fiandre di pittura fiamminga dobbiamo immaginare che parliamo di un luogo geografico molto diverso dall'attuale perché è un luogo che dalla capitale di Gione in Borgogna mette insieme la Franciacorta, Lorene, il Bar, Laino, la Piccardia, il Brabante cioè tutta una serie di terre oggi di Viestrolanda, Belgio, Lussemburgo, Francia arrivando al confine quasi con l'Italia. Questo è il ducato di Borgogna e di Fiandra negli anni di Hans Memling. Queste sono le zone in cui arriva due volte l'anno la muda da mar di Venezia. Venezia è il grande porto dell'Occidente, quel luogo che nel 1498 viene definito da Philippe de Commines, l'ambasciatore francese presso Palazzo Ducale, la città più ricca e più meravigliosa del mondo conosciuto, 120.000 abitanti e la città da cui le mude, le galere da traffico vanno verso la Siria, vanno verso il Nord Africa ma soprattutto da Venezia toccando i porti di Zara, di Corfu, di Messina, di Napoli, di Palermo, passa la galera di Fiandra che da Lisbona va verso Londra e poi approda a Bruges, porta spezie e porta dalle Fiandre grandi opere d'arte verso Venezia. Quelle opere d'arte che andranno a dichire la città lagunare raccontateci nel 1500 da questa straordinaria veduta a volo d'uccello di Jacopo de Barbari su sei tavoli di legno, una straordinaria xilografia di quasi tre metri e mezzo di lunghezza in cui Jacopo de Barbari ci racconta palazzo per palazzo, calle per calle, campo per campo tutta Venezia a partire da quello che è la prodo delle galerie di Fiandra cioè la piazza San Marco, la piazza San Marco dove è retto il palacius, quel luogo in cui si arriva, si sbarca, noi dovete immaginare oggi siamo abituati ad arrivare a Venezia da la stazione ferroviaria, da Santa Lucia è un po' come se entrassimo in una casa dai suoi bagni o dai locali di servizio perché quelli erano gli orti e le discariche di Venezia. Allora era tutto completamente ribaltato e la prima immagine che si aveva di Venezia era la piazza per eccellenza, piazza San Marco e qui sulla riva degli Scavoni arrivano le opere dal nord Europa ma soprattutto inizia un dialogo, un dialogo che era cominciato già da qualche anno. Riconoscete penso tutti, San Giorgio e la Principessa, il meraviglioso affresco della chiesa di Santa Anastasia a Verona di Pisanello, Antonio Pisano detto Pisanello che oltre che Verona lavorerà proprio a Venezia e che in qualche modo è colui che principia questo rapporto e un dialogo ben preciso. Pisanello ci ha lasciato oltre 400 foglie assolutamente straordinari, capolavori della grafica tardogotica, guardate questo volto della principessa ripreso di profilo con la scriminatura alta e la capigliara che andava di moda negli anni 30 e 40 del 400, un brano d'attualità, di interesse per il mondo, osservate nel corteo l'immagine del mongolo perfettamente ripreso e disegnato con il suo arco, le frecce, il suo cavallo con le froge tagliate per correre via veloce ma nello stesso tempo un Pisanello che rappresenta anche la figura di quegli artisti, ambasciatori diplomatici, in questo caso gli schizzi e i primi disegni fatti di Giovanni Paleologo di cui ci dà il disegno finale che porterà alla medaglia, quelle medaglie che Pisanello in qualche modo riscopre a partito dalla meditazione romana, il profilo, quindi l'immagine essenziale e fondamentale dell'uomo, sottolineata anche attraverso la dedicatoria. Sono profili che diventeranno quelli dei grandi signori italiani, in questo caso Lionello d'Este, profili che da medaglia saranno anche i profili delle prime opere di ritratto, di un ritratto alto aristocratico, in questo caso Lionello d'Este è figiato con sullo sfondo il roseto e gli abiti da pompa che replicano quanto ci viene raccontato nella sua medaglia. Questa è la ritrattistica che si impone a Venezia negli anni 40 e 50 del 400, i medesimi anni in cui cominciano ad arrivare le opere dalla Fiandra, le opere da Bruges, prima da Bruxelles, poi ricorderete di aver visto alle scuderie questo meraviglioso ritratto d'uomo col torbante azzurro, un dignitario della corte di Borgogna che presenta l'anello nunziale alla futura sposa, quindi i ritratti minimonici e matrimoniali, un ritratto in cui non c'è più il profilo all'italiano nobiliare ma è il tre quarti, la ricca veste bordata di pellicce e il copricapo della tradizione borgognona. Sono quei ritratti di Van Eyck che porteranno allo strepitoso uomo col turbante rosso, molte volte identificato nel suo autoritratto in cui vediamo tutte le caratteristiche che fonderanno l'arte di Hans Memling, quindi questa pittura d'olio per sottilissime velature, raditocchi, una straordinaria insistenza sui dettagli fisioniomici, guardate le rughe ai lati degli occhi e anche la caratterizzazione di questo sguardo per un Van Eyck che ad esempio ci darà queste immagini della moglie ancora innestate nella cornice originaria con la firma e le iscrizioni che fanno parte della cornice stessa. Sono quei ritratti che iniziano ad appassionare, a magliare i committenti italiani. Il disegno rapido eseguito a punta metallica di Jan Van Eyck per il ritratto che farà del Cardinal Albergati. Avete già sentito il racconto di quanto la committenza italiana sia stata fondamentale nel dialogo con gli artisti del Nord e accanto a Van Eyck nella prima grande generazione degli artisti fiamminghi a un posto di rilievo, Rogier van der Weyden, dalla cui scuola esce questo meraviglioso ritratto di cui vi prego di notare l'insistenza e la caratterizzazione di dettagli come la cicatrice sul labbro dell'uomo intento alla lettura del libro ma anche questo meraviglioso brano di paesaggio che si affaccia dagli scuri le case che si riflettono sulle acque, quelle acque che andranno a contraddistinguere tutti i paesaggi fiamminghi e poi questa meravigliosa idea della chiodatura della finestrata con l'ossidazione che sta colando lenta lungo il legno. Sono gli elementi di partenza per un dialogo fecondo che inizia con Firenze in mostra avete visto questa meravigliosa Cristo davanti al sepolcro un Cristo quasi in croce ritto sulla pietra del sepolcro chiaramente mediato dal capolavoro di Beato Angelico un capolavoro della pittura di luce prospettica fiorentina quindi questa idea di porre perfettamente in modo prospettico sulla croce sull'asta del sepolcro che ci spinge in profondità il corpo di Cristo le braccia aperte rette dai ploranti l'esasperazione data anche dall'Eureole che verrà in qualche modo travisata con la pietra posta in diagonale nell'immagine veideniana. Sono dialoghi, sono incontri, sono momenti che arrivano però a caratterizzarsi anche in modo nuovo. Rogier van der Weyden quello che porta all'interno della pittura europea è una nuova capacità espressiva. osservate questa meravigliosa deposizione di Cristo del prado in cui la Madonna fa quasi da controcanto al corpo del figlio deposto e osservate il volto, il lividito della madre nel momento dello svenimento a contrasto con l'incarnato e più terragno dell'Evangelista che lo regge. Gli occhi gonfi di lacrime sono i modelli a cui si arriverà in opere meno impegnative come quest'altra deposizione, un Cristo completamente irrigidito dalla morte tra l'Evangelista e la Maddalene e sono i modelli da cui parte Hans Memling. Hans Memling che di Natali, probabilmente tedeschi, arriva a Bruges, a Bruges immediatamente riesce a ottenere un ruolo molto significativo nella gilda dei pittori locali e sarà per molti decenni l'artista di riferimento per un mondo nella sua capacità di mantenere gli elementi della tradizione e di declinarli in modi nuovi. Qui dietro vedete molto bene la sua capacità di adottare i modelli di Rogier van der Weyden ma prontamente di mutarli e di mutarli come il trittico di Jan Krabbe, uno dei capolavori ricostruiti dalla mostra alle scuderie quirinali, cioè la possibilità di mettere insieme per la prima volta questo Cristo crocifisso con i due ali laterali oggi alla Free Collection ci consente di rivedere e di ristudiare anche un pezzo, un brano di storia del restauro nella diversa conservazione degli vari elementi ma soprattutto ci consente di capire come lavorava Hans Memling. Siamo intorno al 1467-68, il Cristo centrale, la Maddalena abbraccia la croce, la Madonna sviene tra le braccia dell'Evangelista e dall'altra parte il Battista con i committenti. Osservate ad esempio la posizione dell'agnello nella mano destra del Battista se osserviamo il tutto all'infrarosso ci rendiamo anche conto di che cosa si nasconda al di sotto della pellicola pittorica degli artisti fiamminghi quindi questa straordinaria capacità di raccontare graficamente l'immagine qui vedete come sia attentamente disegnato tutto il panneggio della Madonna con questo tratteggio parallelo che va a sottolineare in modo molto preciso le zone d'ombra e poi il ripensamento fatto dopo il primo riporto da cartone quindi il riposizionamento del volto e il cambio di postura del nostro agnello comprima la mano destra che indicava il Cristo crocifisso. Quindi un riposizionamento per ribilanciare complessivamente l'immagine è fatto da un artista che stupì i committenti per la sua stupificente qualità tecnica. Qui vedete un brano restituito dalle stratigrafie a destra e da una ricostruzione grafica a sinistra della pellicola pittorica di Hans Memling quando noi vediamo le sue opere quello che ci stupisce è la capacità che l'artista ha di modulare il colore di riuscire a darci queste nuanze, questi passaggi chiaroscurali straordinari e questo è il segreto. Osservate la tavola, la preparazione, uno strato di azzurrite con sopra una sottilissima velatura a lapislazio il lapislazio è costosissimo utilizzato al di sopra dell'azzurrite per riuscire a dare un tono di blu molto profondo ma anche brillante al manto della Vergine mentre per i manti rossi in questo caso dell'Evangelista questa capacità di modellare andando a inscurire a poco a poco le cromie partendo dal cinabro, il vermiglione con le particelle di lacca, la lacca rossa e la biacca e la lacca data pura nel suo stato più esterno a volte sono anche sei, sette stesure di colori sovrapposti uno sull'altro il segreto della pittura di Fiandra, quel segreto della pittura per velature che è ciò che arriva a Venezia e ciò che arriva a Venezia è che colpisce immediatamente a livelli diversi uno dei grandi artisti della storia dell'arte di ogni tempo cioè l'artista che in assoluto è stato il maggior rivoluzionario della storia dell'arte cioè Giovanni Bellini, un Giovanni Bellini che esordisce con una pietà, eseguita a tempera guardando ai modelli di Roghe van der Weiden osservate questa meravigliosa immagine, un dipinto poco più alto di 30 centimetri la Madonna che regge la mano con la stimata di Cristo l'Evangelista che ne regge il braccio osservate il contrasto tra gli incarnati ma soprattutto guardate questo gioco di mani la mano rosata della madre, quella ormai cinerea del Cristo e quella terragna dell'Evangelista e poi osservate questo incrocio di volti e di visi gli occhi gonfi di lacrime quelle lacrime, quella carica espressiva che giunge nella Venezia ancora sotto le suggestioni di Pisanelli e di Gentile da Fabriano quindi di una cultura prettamente tardo-gotica attraverso Roghe van der Weiden che consentiranno a Bellini nell'arco di pochi anni nel decennio degli anni Sessanta di arrivare a livelli di espressività assoluta come nella pietà per la cappella del doge in Palazzo Ducale in cui osservate per la prima volta un compianto a dimensioni reali le tre figure sono al naturale questa idea del volto della madre che si embrica in quello ormai del figlio privo di vita quasi scarnificato il tutto illuminato da questa candela che con una ditata è stata appiccicata alla balaustrata dietro al quale vediamo il tutto e quella fiammella rischiara un'immagine che diventerà poi la meravigliosa pietà di Brera una pietà di Brera che oltre alle caratteristiche di espressività anche un altro elemento che emerge dalla tecnica fiamminga se fino ad adesso Bellini ha lavorato a tempera con quest'opera inizia a lavorare utilizzando l'olio un olio a velature secondo la tecnica fiamminga che non perfettamente probabilmente conosciuta e recepita dall'artista gli impone di far questo cioè di prendere quel modello di disegno sottostante che avevamo visto ad esempio in Memling e portarlo alle sue estreme conseguenze un pennello intriso di inchiostro tanti colpi vedete il polso la corsa del polso della mano di Bellini tanto che osserviamo alla fine di ogni pennellata la goccia di inchiostro che rimane questa sovrapposizione di pennellate che ci crea un sottomodellato chiaroscurale su cui una semplice velatura di colore ci permette di apprezzare un nuovo chiaroscuro quel chiaroscuro che osservate anche in questa meravigliosa invenzione di questi due volti che si sfiorano appena in un ultimo sussurro e osservate a livello di disegno sottostante l'unico punto che è rimasto senza disegno è lo zigomo sinistro di Cristo che è il punto di luce dell'intera composizione quindi un Bellini che inizia un dialogo anche tecnico con quello che sta arrivando dalle fiandre oltre che emotivo un dialogo emotivo che è quello che ha portato avanti in modo molto sereno, molto preciso molto tradizionale per certi aspetti Hans Memling questo Cristo in pietà questo uomo dei dolori sulla destra ne vedete gli strumenti del martirio sulla sinistra i ritratti di coloro che hanno imposto il martirio un Memling che guarda la tradizione di Petrus Christus che ci dà questo primo prototipo da cui deriva questo piccolo gioiello assolutamente straordinario ammirabile in mostra quindi un memento tascabile che veniva portato per le preghiere a volte poste sugli altari proprio per stimolare la preghiera personale sono quei modelli che abbiamo visto ampiamente germinare nella pittura di Antonello da Messina Antonello ci ha lasciato a partire dagli uomini dei dolori fiamminghi delle straordinarie immagini che sono quelle dai Cristi alla colonna il Cristo alla colonna che ci viene rappresentato in immagini come queste con ancora la corda al collo lo sguardo rivolto al fedele la bocca abbassata in una smorfia e tutta la capacità di Antonello di costruire plasticamente quasi in soli geometrici attraverso la luce sguardi come questo le gocce le lacrime ottenute con un filo di resina così da darne quasi una percezione tattile l'iride e la pupilla che quasi si uniscono nel momento di questa sgomenta domanda che diventeranno un sussurro nell'eceomo di New York e diventeranno invece una domanda rivolta al padre nello straordinario Cristo alla colonna acquistato all'inizio degli anni 90 dall'Uvro la corda si è fatto elemento di tortura nodo quant'altro è mai presente le lacrime si uniscono alle stile di sangue e si fermano sulle clavicole di un Cristo raccontato in ogni dettaglio della barba ormai madida di sudore e dei capelli che si attaccano alla pelle quella capacità di raccontare in punta di pennello questa domanda rivolta al padre succhiudendo la bolca ne ammiriamo ne osserviamo addirittura i denti quanto sarebbe di irraccontabile di Cristo stesso un'immagine che diventerà pochi anni dopo l'immagine del Cristo morto sempre al prado un'immagine così straordinaria che quando il prado la acquistò si pensò che fosse una coppia ottocentesca da un originale perduto tanto lo stato di conservazione era stupefacente un antonello che è riuscito a rendere Cristo di carne e di sangue un antonello di cui quest'opera viene probabilmente conclusa dal figlio Jacobello che si firma nella sua Madonna col bambino all'Accademia Carrara Jacobello De Antonelli Filius non umani pictor me fecit cioè Jacobello di Antonello figlio di un pittore non umano tanto era alta la sua arte un antonello che nasconde qui in un angolo il teschio di Adamo quel teschio di Adamo quel memento mori che torna quant'altri mai presente nella pittura invece di Fiandra nella pittura di Memling attraverso un'opera che sappiamo con certezza essere a Venezia Bernardo Bembo il padre di Pietro il grande umanista colui che scrive gli asolani il padre di certa volgarlingua a quest'opera un dittico dietro vedete il simbolo di San Giovanni e il memento li girate e avete il nostro Battista con la Veronica che ci mostra il volto di Cristo questo dittico da 1474 e a Venezia viene visto da Marco Antonio Michiel viene ampiamente raccontato come a Venezia si trovava una caccia alla lontra di Jan Banai che certamente i pittori veneziani dovessero essere rimanere profondamente affascinati da questi paesaggi questa prospettiva luminosa che si perde in profondità queste immagini su cui Memling tornerà replicandola ad esempio nel Trittico Florence che nel momento in cui apriamo ci mostra questa meravigliosa immagine di una traduzione dei magi e sono opere che hanno un profondo significato di dialogo con la pittura italiana nel 1475 Antonio da Messina data e firma questo Cristo benedicente è un Cristo che rappresenta l'apice di una ricerca stereometrica e geometrizzante ma rappresenta anche l'icona italiana del Cristo benedicente osservate questa mano che diventa quasi un teorema prospettico nel suo disporso in profondità attentamente studiata e modificata in corso d'opera d'Antonello perché se osservate ad esempio la prima idea vedete il disegno sottostante la mano era decisamente più in verticale ed era decisamente assai vicina a questa cioè uno dei Cristo benedicente di Hans Memling lo vedete ieratico decisamente meno naturalistico meno reale ma più divino con in qualche modo un travisamento di questa mano che non diventa più teorema prospettico ma diventa una mano benedicente mentre l'altra si appoggia sul parapetto che è divenuto cornice in un modello che poi Memling replicherà diverse volte in mostra avete una straordinaria versione recentissimamente tornata alla luce sono immagini di un Cristo che si vengono a disporre in una Venezia in cui però il modello di ritrattistica è rimasto quello di Pisanello siamo negli stessi anni con i ritratti di due doji il ritratto del doge Mali Piero di Lazzaro Bastiani un altro doge che è Francesco Foscari di Gentile Bellini i dogi visti di profilo su uno sfondo indefinito un altro doge replicato da Gentile Bellini vedete questi modelli pisianelliani che rimangono fermi idiomatici a sottolineare la grandezza ma anche l'icona del uomo di riferimento della Serenissima Repubblica e in questa cultura che si innestano i ritratti di Antonello che giunge nel 74 eseguirà una ventina di opere e i ritratti che giungono di Hans Memling Antonello porta qualcosa di formidabilmente diverso il ritratto passato alla storia come il ritratto ignoto marinaio grazie al romanzo di Consolo e il ritratto di un baruni siciliano lo riconosciamo dalla veste col collo alto in questo caso ripiegato osservate lo sguardo beffardo sottolineato dall'inarcamento delle labbra sembra quasi che non si sa se è l'effigiato che si fa beffe dell'artista o l'artista dell'effigiato ne vedete anche gli sfregi dovuti a una vicenda collezionistica prima che entrasse nel beni del barone mandrelisca a Corfu Antonello riesce a mettere insieme la pelle di Fiandra con la capacità di resa delle espressioni e delle emozioni tipica della sua arte un altro ritratto significativamente anch'esso così come i ritratti di Memling i ritratti di Giovanni Bellini nella maggioranza dei casi senza nome perché sono ritratti che nascono in seno a qualcosa di diverso non è più la cultura dei principi quella dei doggi ma è la cultura borghese la nuova società borghese che si fa avanti e che porta alla realizzazione di ritratti come questi in cui l'attenzione dell'artista e a sottolinearci il risvolto della camicciola di lino che spunta da sotto la giacca con il nodo che viene creato e poi la straordinaria capacità di Antonello con un colpo di biacca a unire iride e sclerotica a sottolinearci ogni ciuffo di capelli i colpi di biacca che quasi imbellettano lo sguardo stesso di un uomo di benaltro polso identificato nel cosiddetto condottiero per la cicatrice che taglia il labbro osservate come riesce a dare una rotondità quasi carnosa e reale a queste labbra ritratti attentamente firmati e datati con i cartellini appiccicati con due colpi di cera lacca esattamente come ci aveva insegnato Jan van Eyck trent'anni prima nello stesso tempo Antonello arriva ci porta questi modelli in una città in cui ci racconta Giorgio Vasari chi fa i grandi ritratti e vive dei grandi ritratti e ancora Giovanni Bellini un ritratto di York Fugger quindi il grande banchiere esattamente come Membling faceva ritratti opere per i grandi bianchieri fiorentini Gentile Bellini richiesto da chi arriva a Venezia il ritratto di York Fugger e lievemente visto dal basso verso l'alto lo sguardo perso all'infinito non come quei ritratti di Antonello in cui lo sguardo in tralice sembra seguirci all'interno della scena per sottolineare lo status e la separazione tra l'effigiato e colui che riguarda invece guardate i ritratti dei senatori veneziani di Antonello in cui c'è questo sempre attento escamotage di porre lo sguardo in diagonali in modo tale che ci possa osservare e scrutare nel momento in cui ci muoviamo di fronte ad essi l'attenzione in questo caso alla pellicetta che sborda dal manto di raso e velluto rosso e questo incresparsi delle labbra che diventa un suo elemento di riferimento così come una dolcezza di sguardi attraverso opere che sono attentamente costruite una luce ben diversa rispetto a quella fiamminga e quella luce che immediatamente viene recepita a Venezia da Jacometto veneziano un artista ancora oggi per certi aspetti misterioso che ci dà immagini insieme a Jacobello di questo tipo ma che vede perfettamente integrati in dialogo anche gli artisti fiamminghi Petrus Christus un ritratto di senatore in cui la luce non è quella italiana ma il lustro fiammingo con cui si riesce a costruire questo emergere della figura dallo sfondo che darà vita e stimolerà questo ritratto di Antonello vedete l'identità con il ritratto trivulzio del 1476 un ritratto stupefacente nella capacità di Antonello di cogliere l'attimo osservate un Antonello che sembra quasi togliere da un cilindro il volto del ritratto scompigliarlo con l'inarcarsi delle sopracciglia e con questo classico gesto dei siciliani quando fanno un segno di diniego alzando il sopracciglio schioccando le labbra sembra quasi di vedere in azione questo personaggio e ne cogliamo tutta l'intima essenza appunto nel sopracciglio scompigliato e quasi irrequieto all'interno della saldezza formale della composizione con questa meravigliosa idea della camicciola che è quasi sostituita da una pelliccetta d'armellino che morbidamente va ad abbracciare il collo sono quelle attenzioni agli abiti quella attenzione a degli elementi strutturali che avevamo visto in Rogier van der Weyden qui ne vedete un suo ritratto degli anni 60 quei ritratti femminili che verranno ripresi attentamente da Hans Memling aggiornati al gusto degli anni 70 e 80 e che nella pittura di Antonello non diventeranno ritratti femminili ma diventeranno le straordinarie immagini delle vergini annunciate delle vergini quella di Monaco ma soprattutto l'annunciata di Palermo che ancora oggi ci stupiscono nella loro rigida essenzialità ma anche straordinaria poesia osservate questa idea di aver quasi nascosto l'angelo annunciante siamo noi il fedele l'angelo che appena è entrato che ha scompigliato le pagine che si stanno leggendo di una fanciulla che con la mano destra timidamente si chiude il velo mentre la destra fa un gesto di sereno accoglimento una fanciulla di cui scriveva Sciascia Sadi Chiostro e Dovile una fanciulla che rappresenta la bellezza siciliana e tutta la sua mitezza e dolcezza fatta di ben pochi tratti in una sintesi formale assoluta che ormai ha ampiamente travalicato questa pittura la pittura del Fiandre la pittura di Hans Memling che attraverso però immagini come queste in cui allo sfondo scuro allo sfondo indefinito sostituisce un paesaggio questi paesaggi visti a volo d'uccello tenuti bassi in modo che il volto risalti compiutamente sullo sfondo azzurro del cielo questi ritratti che arrivano a Venezia vengono recepiti da Antonello che nelle sue ultime opere ci darà immagini come questo giovane ritagliato come vedete su uno sfondo di paesaggio e soprattutto anche in questo caso sintetizzato nei suoi elementi formali e di precisione ma soprattutto giungeranno a Venezia questo ritratto fin probabilmente dalle origini dell'esecuzione presente a Venezia la mano sulla balaustra l'innesto all'interno di un ambiente ben preciso e quanto viene ammirato appreso dai pittori veneziani stando attenti anche e soprattutto a questa distanza dell'effigiato rispetto allo spettatore lo osserva molto bene Giacometto che ci dà questo straordinario dittico una miniatura sono opere alte poco più di 10 cm moglie e marito miniaturisticamente effigiati e ripreso poi solo in parte da Giovanni Bellini Giovanni Bellini adotterà non più lo sfondo scuro ma lo sfondo di un cielo luminosissimo per ammantare di luce personaggi che diventeranno vere e proprie icone della ritrattistica del 400 come nel 1502 il ritratto del doge Leonardo Loredan un doge serissimo severo ci viene tramandato dalle fonti lo vedete quasi inglobato all'interno della veste sotto il corno dogale quasi scultorio nella sua definizione fisionomica assolutamente impassibile e l'unica volta paradossalmente che Bellini utilizzerà un paesaggio è nel ritratto del cosiddetto Pietro Bembo quel figlio di Bernardo committente di Memling che probabilmente ha proprio richiesto di essere figiato alla fiamminga ma in realtà il tempo ormai è passato il tempo è passato e se Bellini ha avuto una stagione in cui la pittura per velature era quella che connotava la sua opera è dalla fine degli anni settanta all'inizio degli anni ottanta che ha fatto il passo decisivo il dialogo con l'arte fiamminga rimane a livello iconografico ma a livello di effigi se le figi ufficiali ritratti devono essere sereni e distaccati nel momento in cui effigia dei santi riesce a darci una forza e una vivacità completamente differenti guardate questo San Benedetto per la prima volta viene abbandonata la pittura d'olio per velature e fa capolino un'altra tecnica che è la pittura ad olio data a corpo che ci consentirà di ottenere questo non più le sottili velature stese una sopra l'altra aspettando che si asciughino giocando sulla traslucidità della pellicola pittorica ma una pittura fatta a corpo una pittura densa intensa che ci dà la liquidità di uno sguardo in modo ben differente da quanto lo stesso Antonello aveva fatto e Giovanni Bellini nel 1513 con la pala di San Giovanni Crisostomo lui artista ormai probabilmente ottantenne riesce a giungere a questo cioè a fare quel passaggio deciso e decisivo dovete pensare che qui siamo solamente otto anni dopo il cosiddetto Pietro Bembo eppure è radicalmente cambiato una stagione e un mondo una pittura data a corpo fatta di una sintesi assoluta non abbiamo più quei passaggi tonali e se facciamo una rapida carrellata di quanto abbiamo visto la tempera iniziale della pietà dell'Accademia Carrara l'espressività di volti che guardavano alla tradizione di Van der Weyden la capacità di dialogo con Antonello e Memling in sguardi come quello del ritratto della presentazione del Vergine della Quirini stampaglia la lucidità di sguardi che diventano la pittura a corpo che saranno poi l'inizio della pittura tonale e l'approdo a un modello tecnico che nessuno saprà più cambiare fino agli impressionisti sono quei modelli tecnici da cui partirà e approderà Tiziano Veceglio qui ricorderete un brano dell'autoritratto di Tiziano che conclude la sua carriera e concludeva la mostra alle scuderie di Quirinale un Tiziano che si presenta tronfio alla fine della vita il pittore che tutto ottenuto che ha trasformato la pittura italiana di Giovanni Bellini nella pittura europea un'arte ormai accettata da tutti attraverso ritratti ben e simbolicamente rappresentati a questo suo ritratto cioè il ritratto aulico e celebrativo per eccellenza ma dalla costola di Giovanni Bellini oltre a Tiziano esce anche un altro modello è il modello di Lorenzo Lotto il modello di Lorenzo Lotto che è colui che continua invece a guardare verso nord continua a guardare verso un nord che però non è più il nord di Van Eyck di Van der Weyden di Meimling ma è anche e soprattutto il nord della pittura tedesca della pittura danubiana di Albert Dürer che entra in questo meraviglioso sogno di fanciulla che ricorderete essere il coperto del ritratto della sorella del vescovo Bernardo De Rossi un ritratto che segue la linea opposta a quella di Tiziano non un ritratto aulico e celebrativo ma un ritratto che non fa nessuno sconto alla sua effigiata qui mostrata con aria un poco bovina e che diventerà alla fine della carriera prima attraverso il passaggio dal giovane segretario delle gallerie dell'accademia in cui vediamo tutti quei dettagli quell'insistenza quella capacità calligrafica di raccontare un mondo anch'essa le cui radici troviamo nell'arte fiamminga mediata da Meimling verso Venezia giungerà a un'immagine che in fondo riassume tanto cinquecento che questa stupefacente immagine di un padre cerusico un medico quindi una professione assai umile nell'Italia del 1540 che passa al figlio la sua eredità cioè gli strumenti del suo lavoro questo figlio abbracciato e portato al petto e questo gesto di passare gli strumenti con una qualità di pittura che è una pittura certo data a corpo ma con ancora tutta quell'attenzione ai dettagli guardate l'unghia sporca del bambinetto che raccoglie dal padre gli strumenti ci dà il senso anche in questa definizione nuovamente quasi miniaturistica di quella che è stato l'incontro della pittura di Memling e del Nord con l'arte di Venezia e della loro capacità di creare un linguaggio significativamente europeo grazie grazie